Ciao a tutti ed eccoci qua da Tenore Informatico e bentornati come sempre qui sul mio canale ragazzi è un piacere avervi qui con me per questo nuovo contenuto di oggi, spero che stiate tutti bene e iniziamo con il mio nuovo contenuto che riguarda un tool che per me devi conoscere assolutamente questo tool è uno strumento che ci permette di andare a fare un po' di cosette nel nostro sistema operativo di Windows 11 pensato e scritto proprio per Windows 11, mi pare che ci sono anche delle versioni precedenti che si possono utilizzare anche per Windows 10 ma comunque quest'ultima versione è pensata solo per Windows 11 questo strumento ci permette di proteggere la nostra privacy, non solo, possiamo anche disinstallare delle applicazioni delle funzionalità presenti su Windows e tra poco ti faccio vedere di che cosa si tratta non perdiamo tempo, andiamo subito sul sito ufficiale per conoscere questo incredibile tool come sempre apro il mio Chrome, questa è la pagina ufficiale, si chiama il FreeTimeTech e ha creato così uno script eccezionale che si chiama il Windows 11 The Blotter Tool andiamo a cliccare sul link, verrà scaricato il pacchetto, chiudiamo la pagina di Chrome destro del mouse per estrarre il contenuto con l'estrattore di Windows, estrai tutto una volta che abbiamo estratto il nostro pacchetto possiamo entrare all'interno della cartella per trovare questo contenuto, ci sono dei file, ingrandisco per farti vedere meglio destro del mouse esegui come amministratore aspettiamo che venga avviato dal sistema, chiudo adesso questa pagina ed ecco come si presenta il nostro Windows 11 The Blotter, veramente un programma completo per comodità allargo a tutto schermo per vedere al meglio tutte le varie funzioni che ci mette a disposizione il programma, come si presenta, nella parte in alto ci sono le opzioni apri ps1, aprire, preimpostato disblocco, preimpostazione predefinita di Windows, di fronte e cancella tutto, tutte queste funzioni permettono di accedere o per inserire dei file in questo programma, modalità normale o modificare ecco si modifica leggermente la grafica del programma la lingua, possibilità di scegliere la lingua dall'italiano o altra lingua che è già impostato in italiano perché riconosce la lingua di sistema il tema che può essere quello chiaro o scuro, come stai vedendo io preferisco quello chiaro gli extra, correggi i wingette poi di che sarebbero le informazioni del software e donare per aiutare e supportare il programmatore di questo script vediamo un po' come si presenta questo programma innanzitutto abbiamo visto la parte in alto la barra che comprende tutte le varie opzioni quelle di modifica del software le opzioni per intenderci e poi qui nella parte sotto ci sono delle categorie particolari queste tre categorie permettono di fare un casino di cose nel nostro sistema di Windows 11 andiamo a visualizzare e testare la categoria che viene chiamata EZ Debloater come già detto è in italiano comprensibile la comodità che se ci avviciniamo a un pulsante qualsiasi di questa categoria verremo informati a che cosa serve quel determinato pulsante in questo caso modifiche essenziali che serve per i Twix solo se non sei sicuro quindi vengono fatte le modifiche in modo essenziale quelle più sicure per il nostro sistema di Windows oppure possiamo fare modifiche un po' più avanzate allora le modifiche essenziali in pratica andiamo a cliccare verranno presentati in questo elenco dei Twix essenziali in pratica verranno disattivati o attivati delle funzionalità come stiamo leggendo qui da 1 a 16 e quello che bisogna fare per applicare queste impostazioni basta cliccare qui in basso su esegui script per applicare subito le impostazioni troviamo altre interessanti funzionalità come annulla le modifiche essenziali possiamo tornare indietro se qualcosa non sta funzionando bene nel nostro sistema proseguendo troviamo anche impostazioni predefinite di Windows Update solo aggiornamenti di sicurezza di Windows abilità posizione abilità inbernazione o disabilità centro d'azione per farti un esempio pratico voglio mettere la modalità scura viene selezionata questa modalità qui a destra con la descrizione dello script a che cosa serve e una volta fatto dovremmo cliccare su esegui script una volta che abbiamo applicato la modifica del tema chiaro oscuro si può verificare andando su start impostazioni e come possiamo notare la schermata tutto ciò che riguarda lo sfondo dal bianco è diventato nero in dark stile dark eccolo qua possiamo rimettere le cose a posto possiamo anche andare a pulire l'elenco di produzione cliccando su chiaro per rimettere le cose a posto basterà mettere modalità luce eseguire nuovamente lo script andiamo a verificare ancora una volta è molto semplice utilizzare questo programma veramente facilissimo vedete il tema è tornato come prima il chiaro ci permette di andare a pulire l'elenco di produzione e questo è per quanto riguarda la prima categoria di EZ Debloater che ci permette di andare a modificare un casello di parametri presenti in questo elenco spostiamoci ora su Debloater avanzato qui possiamo decidere come applicare determinate impostazioni già predefinite dal programma troveremo la funzione scrivania che sarebbe il dextro per pc fisso il computer portatile oppure applicare una piccola parte delle modifiche con il minimo il minimo indispensabile o se stiamo utilizzando una macchina virtuale come nel mio caso applicherò macchina virtuale dove vengono selezionati praticamente tutte queste funzioni cosa importante se ti avvicini a una di queste funzioni possiamo capire a che cosa serve qui è sempre consigliato di creare un punto di ripristino prima di procedere con le modifiche verrà creato un punto di ripristino se ci sono problemi possiamo sempre tornare indietro al punto di partenza oppure possiamo decidere in caso di un computer fisso scrivania il computer portatile che sarebbe il notebook oppure il minimo altra caratteristica interessante di questo tool è sicuramente la parte in basso prima di eseguire lo script è meglio verificare a che cosa servono queste funzioni che troviamo nella parte in basso la prima è vedi sceneggiatura permette di verificare che cosa stiamo effettivamente disabilitando in questo caso da me sono selezionati su minimo la telemetria la creazione del punto di ripristino e poi il settaggio manuale dei servizi al centro invece si possono annullare tutte le modifiche dello script una volta che queste modifiche sono state apportate al sistema e per concludere esegui script per applicare le modifiche selezionate e per completare passiamo ora all'ultima categoria di questo tool che è della finite tuning di blotter in questa categoria si possono installare o disinstallare delle applicazioni in base alle sotto categorie presenti qui a sinistra e anche nella parte in alto come funziona? in pratica basta selezionare l'applicazione desiderata per fare l'installazione o la disinstallazione voglio installare Brave oppure lo voglio disinstallare installare più app nella sezione applicazioni di terze parti ci possiamo spostare anche su app di terze parti anche in altre categorie come browser comunicazioni sviluppo fino ad arrivare a ricerca per trovare l'applicazione da installare o disinstallare stessa cosa possiamo fare anche con le applicazioni di Windows dove si possono come già detto fare l'installazione o la disinstallazione privacy personalizzazione una guida sistema ci sono veramente tante cose che si possono fare con questo incredibile programma come funziona la disinstallazione o la disinstallazione di un'app semplicissimo una volta che viene selezionata basta andare qui a sinistra su produzione vedere prima di procedere che cosa stiamo effettivamente andando a modificare quindi aggiungere dei pacchetti su PowerShell di uscita si possono vedere le modifiche prima di essere applicate salvare le modifiche salva con nome i pulsanti di uscita salva e salva con nome in base alle scelte che stiamo effettuando e per concludere per eseguire la nostra modifica cliccheremo su esegui PowerShell bene siamo giunti alla fine di questo mio video fatemi sapere che cosa ne pensate di questo programma vi ricordo che Tenore Informatico non si assume la responsabilità dell'utilizzo improprio di questo mio video siete voi liberi di scegliere se provare oppure no questo programma ti ricordo anche di iscriverti al mio canale di lasciare un bel like a questo video e attiva la campanella per essere sempre aggiornato a tutti i miei nuovi contenuti qui sul canale noi ci vediamo alla prossima da Tenore Informatico ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti